prima dell'anno prima della serie b dopo tre anni in massima serie oggi siamo qui sì per dimostrare è un gioco è un gioco ci divertiamo a fare questo ragazzi ci divertiamo così come era in serie a anche in serie b molti probabilmente manco si aspettavano sarei tornato con la serie b e invece eccoci qui siamo tornati magari non ci saranno sempre la ebreci da casa ma quello allo stadio sei sereni che ci saranno sempre perché è sempre stato per me solo un divertimento non ci ho mai guadagnato nulla con le prezze della serie a e anche oggi questa è la dimostrazione che al di là della serie al di là delle visualizzazioni che saranno pochissime siamo qui ragazzi dobbiamo sostenere la squadra sempre comunque siamo oggi allo stadio a reghi finalmente in curva sud che non c'è niente da gennaio siamo carichi a mille triamo spacchiamo tutto e speriamo della squadra simi titolare simi titolare valenza il mio sosio spero di riuscire a fare un video con valenza nel caso che se restare quest'anno ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un like supportate soprattutto a voi se siete ritornati ragazzi e supportate anche in serie b lasciate un like a dimostrazione di questo ci vediamo mo amma della sindossale eh i riti il campo ancora ridotto una merda pensavo fosse a posto però invece ancora non è proprio non è consigli bruttissime ma in alcune parti non carina oh e oh la saleditana oh e oh vada come vada oh e oh non la lasceremo mai una sola cosa mi sono innamorato della saleditana e allora tutti insieme è iniziato io crediamo stessa dai non saremo nella curva giù come la bomba il tipo esploderà la data qua la data là la data è forte è è è è è è è è è Non ho parole, non ho parole. Ho avviato già un primo gol di Scemi, 8 minuti di Serie B, guarda se iniziamo così, come è finita la scorsa stazione, veramente incredibile, il primo gol di Scemi, 8 minuti di Serie B, questo è il continuo della scorsa stazione per il momento, ma guarda che mi è superata la metà al campo, il primo gol di Scemi ha avviato lui. Dai, 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 a me mi piace proprio, i giocatori veloci, forse che per tre anni non abbiamo avuto mezzo giocatore veloce, mezzo giocatore veloce. Va bene, va bene Callon, va bene, l'unico che gioca, l'unico che giocherà questa squadra, state sereni, state sereni, l'unico che giocherà tutta la stagione. Grazie. 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 la l'altro miracolo ha fatto questo l'altro miracolo ha fatto l'altro miracolo ma siamo più forti noi con questo tiro siamo più forti noi vai, vai sottoposta l'ha tirata là l'ha tirata lì ma tu come fai ma ancora ho rimesso la terave ma proprio dietro a metà cazzo cosa abbiamo fatto di male per vedere ciò ma che cazzo 30 calci d'angolo 30 calci d'angolo solo 2 l'ultima serie del primo tempo anche se due recuperi di recupero ci saranno finisce il primo tempo il primo tempo devo dire non male non mi è dispiaciuto la squadra non mi è dispiaciuto soprattutto un paio di giochi l'ho visto in formissima non capisco perché un giocatore del genere deve mandare un'altra squadra concorrente veramente il primo tempo migliore in campo Carlo mi piaciuto tanto difesa hanno dovuto benissimo Bron Dani Luic non so l'altro che abbiamo comprato Veltus mi pare a sinistra Anjoy il nuovo giocatore mi è piaciuto molto una squadra abbastanza completa i problemi sono due ovviamente evidenti uno è simile davanti che non può giocare a pallone l'altro è Valencia anche se il Socia non è a livello questi due sono i problemi vediamo al secondo tempo meritavamo noi anche se il loro gol per le due tre occasioni che hanno avuto si può sapere siamo al secondo tempo voglio appena il secondo tempo l'ha rimontata l'ha rimontata da forza perché abbiamo dovuto perderla è veramente un peccato siamo i migliori in campo abbiamo avuto le nostre occasioni e spero continueremo così nove angoli battuti nel primo tempo per farvi capire la pressione del secondo tempo non è un giocatore di pallone questo madonna mia Simi non è un giocatore di pallone 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 fa una bella brazzo lungo e forte tecnicamente non fosso mamma mia non segneremo mai non segneremo mai non segneremo mai non segneremo mai che mi rappena la posta è grave la posta è grave è grave lo stai che la portano poi prese 6,8 6 dai è lunga è lunga ma devola vincere dai questa difesa deve rimanere deve rimanere la difesa compra l'attaccante la difesa deve restare questa non la devi toccare la difesa non la devi toccare la difesa deve restare questa è ancora lunga 7 minuti andamola a prendere che la meritiamo dai 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 andamola a prendere andamola a prendere andamola a prendere la curva te lo canta dovete fare noi e lo canterò oltre a loro attenzione è una vita è una vita che ci seguo dai salendo facciutò non c'è partita non c'è partita non c'è partita ma la curva te lo canta la curva te lo canta dovete fare il gol 0 zero Sera! 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 Non aveva pensato di farlo, non aveva pensato di farlo. Poi te affernisce questa partita, poi te affernisce questa partita. Poi te affernisce questa partita, poi te affernisce questa partita, poi te affernisce questa partita. Fisca! Fisca! Non c'è Mario! Non c'è Mario! Non c'è Mario! Non c'è Mario! Se non l'avamo scordati, pensi di vincere! E ora tutti sono ragazzi! Ok? Non c'è Mario! Alla prossima!